Le organizzazioni sindacali sono sul piede di guerra per la mancanza di sicurezza in molti luoghi di lavoro, sia privati che pubblici, a cominciare dalle caserme dei Vigili del Fuoco. I segretari generali di CGL Cisle Will della Liguria, insieme alle strutture sindacali delle province, lo scorso 12 marzo avevano inviato una lettera urgente alle prefetture Liguri per lanciare l'allarme sulle condizioni di lavoro legate all'emergenza coronavirus. Ad oggi l'appello inviato alle prefetture, secondo i sindacati, è oltremodo valido ma inascoltato. CGL Cisle Will chiedono ai prefetti di farsi garanti del protocollo e di agire sugli inadempimenti. Allo stesso modo il sindacato USB dei Vigili del Fuoco ha inviato una lettera al direttore regionale Claudio Manzella, al comandante di Genova Fabrizio Piccinini, per denunciare la violazione delle norme di sicurezza e protezione dei lavoratori. USB accusa i dirigenti di superficialità per non aver adottato misure di sicurezza nelle caserme, lasciando così i lavoratori nella completa mancanza di tutela preventiva, con rischi di contagio per i Vigili del Fuoco e anche per gli utenti con cui vengono in contatto. USB inoltre evidenzia che i lavoratori non firmeranno alcuna autocertificazione attestante di essere in buona salute, risultando impossibile procedere a dichiarazioni accertanti un fattore presunto e non oggettivo, comprovabile in modo specifico. SIMPRO